Mentre la LNG ha fatto le valigie, licenziando tutti e traslocando dalla sede di Brindisi, arriva l'ok alla sicurezza all'impianto. Proprio così il Comitato Tecnico Regionale, nelle scorse ore, ha dato parere favorevole per la concessione del NOF al progetto da rigastificatore a Capobianco. Si tratta del nulla ossa di fattibilità, che ora sarà consegnato alla Brindisi LNG, documento indispensabile per realizzare l'opera. Il provvedimento è passato con otto voti a favore e sei contrari. Hanno espresso il loro di Niego, Provincia, Comune, Regione e Arpa e altri due membri, uno in rappresentanza dell'INAIL e l'altro dell'Ordine degli Ingegneri. Ma la maggioranza ha dato il via libera. Quanto questo potrà influire sul futuro del rigastificatore a Brindisi, al momento non si può provvedere. Visto che il cantiere di Capobianco è stato confiscato dopo la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Brindisi, per ora della LNG non c'è più traccia su questo territorio, avendo anche annunciato di non essere più interessata a Brindisi. Ma il governo ha espresso più volte la volontà di voler sbloccare i rigastificatori in Italia. A questo si aggiunge ora anche il nulla ossa di fattibilità per quello di Brindisi. Insomma, ancora una volta due poteri che vanno a scontrarsi.